Ciao, il lavoro che ti propongo è il lavoro in ambito social selling, settore cosmetica. Allora, si inizia da noi come beauty promoter e poi puoi crescere e diventare una manager indipendente. Andiamo a vedere cosa significa fare la beauty promoter. Allora, la beauty promoter è un'incaricata alle vendite. Ecco lei che va a proporre tutti i prodotti alle persone che conosce. La priorità sicuramente è quella di vendere prodotti perché è proprio un'incaricata alle vendite. Si aiuta con l'utilizzo dei social perché il nostro lavoro si svolge sui nostri canali social, quindi Whatsapp, Facebook, Instagram. L'inizio è uguale per tutti. A partire dal primo ordine avrai la mia formazione continua e la mia guida per raggiungere il tuo successo, quindi per raggiungere la tua carriera lavorativa. Dopo il primo ordine si aprirà un mondo fatto di tante soddisfazioni e come dico sempre deve decidere tu se viverlo appieno e quindi farti prendere per mano e raggiungere il tuo successo. Il lavoro si inizia a costo zero, non hai obblighi o fissi mensili. Io ho iniziato per gioco e adesso è come qui, sono una manager di successo e gestisco un team di mille persone, ragazze che come me si sono date la stessa opportunità. Quindi non avere pregiudizi, non avere limiti, il lavoro non è solo il lavoro classico. Quindi tuffati nel futuro e datti questa opportunità. Contattami!